Questo signore, io già lo conosco, perché lo vedo sempre in televisione. Ma dai, dove? Eh sì, un programma bellissimo che fa la Domenica. La Domenica Sportiva fa... Non è la Domenica Sportiva, Gigi che c'entra, un vocalist. Un altro, un altro spettacolo che potrebbe essere, un altro programma. Di Domenica? Eh, lo dico io, Domenica Inn! Eh, lui! E mo' devo chiedere una cosa, l'emozione. Mi deve dare l'emozione, vorrei che l'accennassimo insieme. E anche bene augurato. Non so qual è, ancora non lo so. Tre numeri a un lotto, visto che ci troviamo a Davo, che è stata cantata da Van Good, e poi anche da Carosone. Certo. E quindi, allora vogliamo salutare gli amici delle spettatori, magari in questa maniera simpatica, che possa essere foriera anche... Anche il numero intero. Noi i numeri ridiamo, vediamolo. Poi, vediamo te. Signori, canto con Pierluca Buclade. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60, 38. Penso a pochi di concesso sarà, la canzone se il terno uscirà. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60, 38. Le ho giocate con Vito perché usciranno tutti e tre. Grande, grande.